1, 2, 3 Che hai fatto? Devo fare 3 e poi vieni Che hai fatto? 6 No, dai Un bonus No, finito il bonus Grazie 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 Come fai nei 8? 8 Guarda, nello te è capito Andremo a girare Viene uscire a taccio Senza fargliettino 8 Non si può prendere Allora, non si può prendere No, non si può prendere Tutto Tutto Tutto